salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale carter boys in questo video vogliamo mestrarvi un air style elegante a finitura lucida perfetto per le feste per fare un'ottima figura con i vostri pari vi ricordiamo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità dell'air styling partiamo subito per cominciare applichiamo questo pre styler a capellini in questo modo daremo ottenuta e proteggeremo i capelli dal calore asciughiamo i capelli all'indietro prima con le mani e poi con una spazzola piatta facciamo anche una stiratura con una spazzola rotonda per renderli più lisci questo prodotto ha una tenuta molto forte e un effetto lucido attivatelo come mostrato a video e applicatelo su tutta la lunghezza dei capelli andiamo a rifinire i capelli con il pettine per separare le ciocche e l'air style è pronto non dimenticatevi di pettinare anche i capelli dietro e non dimenticatevi di pettine per fare le ciocche e l'air di più